Siamo a Giovinazzo, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, per la prima edizione di Mare d'Inchiostro, il primo festival delle storie di mare. Perché le storie di mare? Intanto come è nata l'idea? L'idea è nata tra persone che amano le storie di mare, persone che amano raccontarle, che amano leggerle, che amano ascoltarle. E quindi ci siamo detti perché non creare un festival delle storie di mare dove persone come noi che amano le storie di mare si possono ritrovare, possono raccontarle ed ascoltarle. Abbiamo portato alcune persone che secondo noi hanno tanto da raccontare, come Ugo Vau, il surfista portoghese che ha cavalcato l'onda più alta del mondo, 35 metri a Nazaré. Ma non è soltanto il dire ha fatto questo, ha centrato un record, ma è anche capire che cosa ha provato. Lui mi ha raccontato che surfare, cavalcare un'onda di questo tipo è come scendere da una montagna con lo snowboard con tutta la valanga dietro. Devono essere emozioni fortissime, si ha paura. Cosa si pensa in quelle frazioni di secondo? Ecco, a noi piace sentire raccontare questo. Che cosa avrà provato Ugo Vau sull'onda, su Big Mama, così la chiamata di 35 metri? Oppure abbiamo portato e c'è con noi Alessandro De Rose. Alessandro De Rose è l'unico tuffatore italiano del circuito Red Bull, dei tuffi da grandi altezze. Pensate, si tuffano da una piattaforma di 27 metri, alta 27 metri sul mare o sul specchio d'acqua, nei luoghi scenografici pazzeschi, dalle Azzorre al Bilbao, piuttosto che a Polignana Mare, dove si è concluso il circuito e dove c'è stata la tappa finale. Bene, cosa pensa Alessandro De Rose prima di tuffarsi? Guardando il mare, pensate, poi sotto ci sono delle persone, dei subacquei, che schizzano l'acqua per fargli capire dov'è la superficie del mare. Cosa proverà quando si affaccia da quell'altezza? Guardando quel blu che ha sotto, il blu di Polignano, prima di volare. Oppure abbiamo portato Alex Bellini, con noi Alex Bellini, che è un esploratore, un atleta dell'estremo. Pensate, ha attraversato a Remi l'Atlantico e il Pacifico. Ed è uno di Aprica, peraltro, che non è nemmeno nato marinaio, ma è diventato un uomo di mare. Anche lui, che conti ha fatto con il mare? Che cosa succede in mezzo all'Atlantico, al Pacifico, in mezzo all'oceano, con magari onde alte come montagne, vento, con una canoa, una semplice canoa, un uomo solo? Chi dà la forza di continuare? Che rapporto ha col mare? Anche questo vogliamo sentir raccontare. Queste sono le storie del mare che ci piacciono, ce ne sono tantissime altre, i libri li conosciamo tutti, dai naufragi alle grandi imprese, sia sportive che umane. Ecco, caccia al tesoro, tesori. Nel nostro caso, noi siamo cacciatori di tesori, ma il nostro tesoro sono le storie di mare. Ed è su questo che vogliamo insistere e anche far riflettere. Perché in realtà l'Italia è un paese di mare, con tante persone che amano il mare, tante persone che vi lavorano, ma in realtà poi di cultura del mare e di storia del mare rimangono fra pochi, fra gli addetti ai lavori, fra gli appassionati. Ecco, noi vorremmo allargare il campo. E Giovinazzo, che è una... siamo circondati dal blu, oggi poi è una giornata di maestrale, pazzesca, una luce incredibile, un blu profondo che ti entra dentro davvero il cuore. Ecco, questo potrebbe essere anche lo scenario ideale per far crescere questo festival delle storie di mare e far sì che Giovinazzo diventi un po' la capitale d'Italia delle storie di mare. Quindi ritrovarsi qui ogni anno con altre persone che hanno qualcosa da raccontare di mare, naturalmente il mare è predominante, trovarsi e scambiarsi storie di mare. Questa è un po' la nostra idea, il nostro obiettivo e il teatro davvero meriterebbe che questa idea si consolidasse e fosse sviluppata. Noi ci proveremo. Noi ci proveremo.